Il prossimo speaker, devo dirvi un nanetto per cui non casualmente si seguono Fuggetta e Susani. Quando io ho lanciato il mio progetto di It's Me, mi è venuta questa idea e ho scritto a due persone. Le due persone erano Alfonso Fuggetta e Marco Susani. Alfonso Fuggetta era l'ingegnere informatico della tecnologia, Marco Susani era il design. Perché Marco Susani era per me il design? Perché io l'ho conosciuto quando lui era il capo del centro ricerche di Domus Academy e faceva progetti di interaction design molto innovativi e abbiamo cominciato a collaborare. Poi lui ha lasciato Domus Academy e dopo un anno l'ho ritrovato che faceva l'interaction design dei telefonini della Motorola. A lui si devono il Razor e la linea dei smartphone della Motorola. Poi adesso si è stufato anche della Motorola e ha creato uno studio a Chicago con cui fa interaction design ma anche è tornato a fare il design che faceva all'inizio. Perché prima di fare il capo della ricerca, di approdare a Domus Academy, Marco Susani ha collaborato con Ettore Sozzas, De Lucchi eccetera al design dell'Olivetti. Quindi c'era nel suo DNA. A quell'epoca l'unico rapporto che avevano i designer con la tecnologia era quello, in Italia era quell'Olivetti. Quindi lui ha avuto la fortuna che ha iniziato da allora e adesso continua. Quando insegnava in Domus Academy il tema della Apple era uno dei suoi motivi, una delle sue lezioni più prestigiose e più belle. Oggi ce la fa in forma rinnovata. Grazie. Stiamo facendo una presentazione sulla Apple da una macchina Windows, questa è una vergogna. Grazie Giorgio per l'introduzione. Spero di fare in realtà un buon servizio a Giorgio che mi ha invitato, anche se lo farò in modo un po' anomalo, nel senso che qui parliamo dei rapporti fra Steve Jobs e possibili rapporti col modello italiano. Io avendo speso nove anni in una grande corporation americana, Motorola, mi sono trovato nel preparare questa presentazione a ragionare di più sul fatto che Steve Jobs non era americano, prima ancora di ragionare sul fatto che potrebbe avere dei collegamenti col modello italiano. Quindi gran parte delle considerazioni che farò saranno su questo, sul fatto che, e non l'ho sentito molto da altri, che Steve Jobs ha praticamente negato tutti i principi di management che le più prestigiose scuole americane o le più prestigiose o più grandi corporation americani insegnano. Per cui ho raccolto un po' di citazioni, soprattutto dalla biografia di Steve Jobs, per cercare di supportare questo discorso. Io non so se posso andare avanti da qua, perché questo è un PDF. Allora, la prima citazione che ho preso è del periodo in cui Steve Jobs stava per tornare alla Apple e apparentemente fuori da qualunque contesto, questa è una frase di Bill Gates a proposito di Steve Jobs, e questa sembra una frase di apprezzamento, perché se la si legge era un tipo che aveva un grande gusto di design e un grande gusto di ingegnerizzazione, per l'ingegneria. In realtà, nel contesto, Gates non era particolarmente favorevole al fatto che Jobs stesse rientrando in Apple. Il fallimento della Apple, il fatto che comunque stava facendo i cloni in quel periodo, stava dimostrando la teoria di Bill Gates dei sistemi aperti, piuttosto che quella di Jobs. In realtà, se si legge più nello specifico i termini che Gates usa, aiutano a capire come la cultura americana convenzionale vedeva una persona come Steve Jobs. Ci sono due great, per cui sembra un apprezzamento, ma in realtà c'è questa cosa del taste, che è un gusto, che è un modo sottile, ma neanche tanto, di dire che era un amatore, che era un dilettante. Aveva gusto di design, ma non era veramente un designer e soprattutto, credo da parte di Steve Jobs, aveva gusto per l'ingegnerizzazione, ma non era mica un vero ingegnere. Per cui c'è una specie di sintetizzata in una frase apparentemente carina, c'è condensato tutto il disprezzo per un genio multiforme che è l'opposto della cultura americana corporate, cioè non sei un ingegnere, capisci qualcosa, e non sei un designer, ne capisci qualcosa, e comunque chi se ne frega del design, perché qui siamo tutti ingegneri. Per cui questa è la sintesi più interessante che tende a dimostrare che la cultura americana che viene insegnata nelle scuole di management e che viene praticata nelle grandi corporation è molto diversa dall'idea di combinazione di competenze, di una relativa in senso positivo superficialità attraverso tutte le competenze, cioè non essere specialisti di nessuna in modo negativo, oppure essere un po' specialisti di tutte, che è la cosa che veramente serve quando si gestisce una grande azienda e la complessità. Dopo questa in realtà ho raccolto, tornando un po' più allo specifico del design, alcuni statement che, i primi sono di Jonathan Ive, che è il capo del design dell'Apple, e che aveva uno strettissimo rapporto con Steve Jobs. E questa è una frase molto recente, è una delle pochissime interviste che Jonathan Ive ha fatto in generale, ed è stata fatta dopo la morte di Steve Jobs, per cui tutti vanno da lui adesso a chiedere com'è che Jobs lavorava in relazione al design e com'è che ha fatto il design all'Apple. E anche questa frase ha una specie di due interpretazioni, apparentemente sembra semplicistica, c'è un designer che dice ma noi facciamo solo prodotti, sembra un ingenuo o anche lui un dilettante. In realtà io trovo c'è una profondità incredibile nel fatto che lui dica facciamo semplicemente prodotti fantastici, perché tutto sommato il mestiere del designer è quello, uno ci può fare costruzioni intellettuali, ci può fare discorsi molto più complessi, ma c'è questa estrema attenzione nel fare prodotti, e qui per prodotti non si intende solo prodotti fisici, si intende anche prodotti, il sistema operativo ad esempio, l'interfaccia, l'interazione e così via. E poi c'è la seconda parte della frase che è se non riusciamo a fare di meglio non la facciamo, che è uno dei grandi mantra anche di Steve Jobs, che è quello di fare poche cose ma farle molto bene. Per cui nel mondo del design una dichiarazione del genere in questo momento, io lo trovo estremamente interessante perché anche quando il design si occupa di cose che sembrano non direttamente legate al prodotto, come, e questo lo diceva Steve Jobs, loro facevano strategie insieme, Jonathan Haib e Steve Jobs, quindi il designer partecipava, diciamo, della costruzione dei destini a più alto livello dell'azienda da Apple, però comunque lo fa da designer. Ci sono, questo non lo dicevano loro, ma lo dico con amici a volte, tanti designer dicono che salvano il mondo, e vabbè c'è un po' di pericolo nel dire che il design salverà il mondo, ma anche se lo affermi, comunque noi salviamo il mondo con i raggi, con i dettagli, con come gli spigoli dei prodotti funzionano, salviamo il mondo con i pixel, come metti i pixel delle icone, così. Salviamo il mondo non facendo un mestiere diverso dal design, ma applicando il design in modo metodico e anche maniaco al prodotto. E credo di averne molte di queste citazioni sul prodotto perché sono diventato anche un po' maniaco di questo fatto, di questo focus sul prodotto. Ce n'è altre come questa che, e io mi sono trovato anche in queste condizioni, col fatto, ed era un po' nella cultura del design, per cominciare dagli anni Ottanta, il fatto della differenziazione, della differenziazione all'interno di un portfolio di prodotti, ma anche della differenziazione per regioni e così via. Ed è in questo momento, guardando il rapporto fra Apple che fa tre prodotti in tutto e li fa sempre nuovi e sempre fortissimi iconici e Samsung, Motorola e gli altri, che ne fanno 500 e che sono piccole variazioni e che in realtà raccontano storie molto più deboli, un po' la cultura del design che ha lavorato così tanto sulla differenziazione va un pochino in crisi. È meglio fare poche cose e farle in modo molto solido e abbandonare un pochino quest'idea di fare differenziazione fine a se stessa. E poi c'è un altro aspetto che trovo ancora più interessante, che è organizzativo. Questo è un racconto di come Jobs aveva relazione col design studio. Passava di lì ogni pomeriggio. Allora io ho passato nove anni in una grande corporation come Motorola e ho passato lunghi periodi in cui il CEO non passava per niente dal nostro ufficio, ma neanche si occupava, e ne ho visti 4 o 5 di CEO, avevano una relazione molto lontana dal prodotto. E non era una questione di rispetto di delega o dei grandi designer che li fanno, non c'è bisogno che fichi il naso. In molte situazioni l'ho visto come una situazione di disinteresse per non quello che noi facevamo, ma per il prodotto, per quello che facevamo come azienda. Un aneddoto, nel 2004 arriva un nuovo presidente di business unit, praticamente il capo di tutta la parte di Motorola in cui lavoravamo. Il suo maggior successo, il suo statement più forte era voglio una stanza in cui mettiamo tutti i prodotti perché non so cosa stiamo facendo. E la stanza l'abbiamo trovata molto grande perché non c'era una stanza abbastanza grande in Motorola per mettere tutti i telefoni che facevamo. E alla fine quando guardavamo la stanza con tutti i telefoni erano tutti uguali. Cioè c'erano piccole variazioni, ci abbiamo messo un paio di mesi per scoprire cosa stavano facendo in Cina perché stavano facendo dei prodotti diversi che nessuno conosceva, per radunare tutti i responsabili di prodotto perché nessuno sapeva esattamente perché facevamo quei prodotti. Per cui il confronto fra la complessità self-inflicted, deliberatamente, suicida, di quella situazione col fatto che ci sono due persone che si incontrano al pomeriggio, fanno i prodotti, disegnano tutto, finito. La trovo fresca, intelligente e di nuovo un'altra degli esempi in cui il mondo di Stigio sia lontano da molte aziende del modello americano. E legato a questo ma ancora un po' diverso, che spiega ancora un po' di più il modo di pensare di agire di Jobs e di Apple Jobs andava nello studio di design perché era calmo. L'idea di prendersi tempo per fare le cose bene è un'altra delle cose che non si vede neanche a morire in una grande azienda. Cioè c'è il culto della velocità, il culto del multitasking, il culto della gestione della complessità e così via. Magari è anche necessaria una certa scala, ma la scala dell'Apple è la scala più grande che un'azienda può raggiungere perché è l'azienda almeno più capitalizzata in questo momento del pianeta. E nonostante questo il modo di lavorare di Jobs e di Jonathan Hive è, si siedono e passano i pomeriggi a discutere di prodotti. Per cui focus sul prodotto. Idea che per ragionare anche di fronte a una macchina estremamente grande di scala, estremamente complessa, uno si deve sedere, fermare e riflettere. È in parte legato alla cultura zen da cui Jobs arriva, ma anche dal buon senso, dal fatto che per ragionare bisogna fermarsi, sedersi. O, altra cosa che Steve Jobs serve a camminare, l'idea di questi percorsi peripatetici in cui lui e Jonathan Hive ragionavano di design è una cosa molto affascinante. L'altra cosa, e questa è una citazione a proposito di Jonathan Hive, del capo del design, ma anche il padre di Jobs era un artigiano, l'idea di artigianità, 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 craft, che è anche questa molto lontana dalla tradizione della corporation. Gli Stati Uniti non hanno mai avuto craft, non hanno mai avuto la dimensione artigiana, sono cresciuti, esplosi nel periodo industriale e questo si vede, si vede dai prodotti, si vede dall'idea, dal fatto che la qualità di derivazione artigianale che c'è in alcuni prodotti industriali, in Italia, in Germania o in Giappone, in America non c'è, non c'è mai stata. Invece nella dimensione di Apple c'è almeno come tradizione culturale questa idea del craft, che è l'idea di fare le cose bene perché è un piacere farle bene, non per un fine secondo per venderle, per venderne di più, ma è un piacere intrinseco nel fare le cose. E c'è un'idea di fare, cioè fare lo studio di design dell'Apple, la maggior parte dello spazio e delle risorse sono messe nel fare prototipi immediatamente, non nel fare meeting e così via. Ancora dal punto di vista organizzativo, la sensibilità di Jobs nei confronti del design l'ha portato a mettere anche all'interno della gerarchia il design molto vicino, il design riporta direttamente al CEO. Questa è una cosa che in realtà in America sta succedendo un pochino adesso, non era nel passato, nel passato tipicamente come ruoli il design stava dentro, il marketing stava dentro la gerarchia ed era un po' più lontano dall'amministratore delegato. L'idea che il design sia una delle competenze fondamentali in un'azienda, nella tradizione delle corporation americane non era così rilevante, in questo momento in realtà sta succedendo, cioè mediamente in un'azienda americana i designer adesso sono molto vicini ai CEO, ma in tradizione nel periodo dagli anni fine 70 fino a oggi l'Apple è sempre stata così. E questo l'ho un po' già anticipato prima, cioè Steve Jobs nega anche una tradizione americana nel fatto di costruire junk praticamente. Molta della tradizione industriale americana è legata a un'idea di consumo in termini materiali, cioè l'automobile americana negli anni 60-70 andava a pezzi, si consumavano letteralmente. Le cose sono costruite male, si può fare una cosa di lamiera piegata piuttosto che di pressofusione si fa, tutto suona tolla, latta negli Stati Uniti. E questo è un commento che Jobs faceva prima di comprare una lavastoviglie 1000 tedesca per la sua casa, per cui lui aveva questo atteggiamento nei confronti dei prodotti che è un po', appunto come dicevo prima, della cultura, probabilmente la cultura tedesca è quella e quella più vicina, il fatto che si costruiscono le cose solide e ben ingegnerizzate per il piacere e per la cultura di fare le cose bene. E poi ci sono le famose aneddoti, le famose storie di costruire le cose, di fare le cose bene, di disegnare le cose bene anche all'interno, nelle parti che non si vedono. Questa è il lato fisico del prodotto fisico, il fatto che lui disegnava il layout dei PCB all'interno dei computer in modo che sembrassero belli, che avessero una qualità estetica. C'è un'altra parte che non è leggibile in questa citazione, che anche nel software c'è un'eleganza e nel modo di fare codice uno può buttare dentro quello che spesso in America si chiama spaghetti code, che non è un riferimento agli spaghetti intesi come Italia, ma è un riferimento al fatto che gli spaghetti sono intricati, che non ci si capisce niente, che se qualcuno deve lavorare sul codice di software qualcun altro deve capire che cosa sta succedendo. Per cui l'idea che ci sia eleganza nei circuiti stampati, che ci sia eleganza nel codice del software, non è tanto un'estensione della mania estetica, ma è un riconoscimento che c'è un rapporto fra la qualità estetica e la qualità del prodotto. L'estetica non è cosmetica. E poi l'attenzione al prodotto non è solo un'attenzione al singolo sviluppo di un singolo prodotto, ma è un'attenzione al portfolio, un'attenzione al rapporto fra un'azienda e l'offerta prodotti. E questo, l'abbiamo anticipato un pochino prima, la posizione e la strategia di Apple è molto diversa da quella della differenziazione, for differentiation sake, tanto per differenziale, o differenziazione supportata da motivi di differenziazione regionale, di preferenze e così via. Il suo commento, il commento di Jobs, arrivando, guardando Apple prima di tornarci, è che hanno gli aeriprodotti e fanno tutti schifo. Che i prodotti, non tanto un singolo prodotto, ma in generale il portfolio di prodotti fa schifo e non c'è excitement, non c'è sex da nessuna parte. E il fatto che, questo è uno dei mantra dell'Apple all'inizio, ed erano tre punti, e uno di questi è per focus, per concentrarsi sulle cose importanti bisogna buttarne via. E questo è sia all'interno di un certo prodotto, cioè buttiamo via features, se davvero non sono importanti, col rischio di buttare via qualcosa di buono, ma meglio buttare via qualcosa che magari è rilevante, piuttosto che aggiungere junk, che aggiungere roba inutile, a livello di prodotto e a livello di portfolio. Cioè, perché avere 20 diversi tipi di computer quando ne possiamo fare, e credo ci sia, e dopo vi spiego come lui ha semplificato il portfolio, tornando all'Apple, commenti su altri CEO, Scali era il CEO che l'aveva sostituito quando Jobs era stato buttato fuori, e il suo disprezzo principale per una persona che l'aveva buttato via dall'azienda che Steve Jobs aveva costruito, è che non capiva niente di prodotti. E aggiunto a questo il fatto che c'è questi, Apple fa soldi e li fa molto bene, e non è un'azienda non capitalista, o non legata al consumo, però comunque la molla, la passione interna che fa funzionare le cose non è quella di fare soldi, ma di fare prodotti fatti bene, e ovviamente col fatto che un prodotto fatto bene alla fine fa soldi, mentre l'obiettivo di fare soldi non fa necessariamente soldi, non fa guadagnare, non è il riferimento fondamentale. Ancora una citazione su non fare cose che non servono sia a livello di azienda, di strategia aziendale, sia a livello di prodotti, e questa è la citazione che cercavo prima, collegata alla semplificazione del portfolio. Cioè invece di fare grandi costruzioni strategico-intellettuali su quanti prodotti abbiamo bisogno, per quante regioni, come ci colleghiamo nel caso dei telefoni con le telecom negli Stati Uniti che sono diversi dalle telecom in Corea e così via, lui dice, in questo caso non a proposito della telefonia, ma a proposito dei computer, perché facciamo tutti questi prodotti? Fa quattro quadranti, i quattro prodotti erano desktop, consumer e professional, e notebooks, consumer e professional. Finito, basta, tutto qui. Trade-off, in scambio, diciamo, è come se Jobs promettesse ai suoi, nell'azienda, di semplificare qualunque tipo di meccanismo, di strategia, e in cambio di questo chiedeva che niente fosse impossibile. Però qui c'è una doppia negazione, che fa le cose un po' complicate, ma insomma lui diceva, se non mi dimostri che non si può fare, lo fai e lo fai domani. E questo è, in questa citazione, la richiesta all'inizio di Mac, di Steve Jobs, di fare Windows, finestre che si sovrapponessero, quello che adesso non sembra magico a nessuno, ma ai tempi, la più forte analogia col mondo fisico-materiale, cioè se metti due cose, una sopra l'altra, si coprono, e nell'evoluzione del Mac OS si fanno anche ombre, le ombre portate e così via. E questo in realtà, dietro questo, c'era anche uno degli statement più forti come ispirazione per tutti noi, perché abbiamo cominciato a imparare interaction design dalla Apple, che era molto noto negli anni Ottanta, adesso non so se qualcuno se lo ricorda, ma uno dei commenti fondamentali su quanto il Mac fosse sbagliato nel mondo del computing in quel momento è che buttava via RAM per mettere una bella grafica sullo schermo. Cioè una delle prime cose che abbiamo imparato a apprezzare facendo interaction design è che Jobs era riuscito a convincere i suoi ingegneri e in generale nell'industria del computing a dimostrare a tutti gli altri che valeva la pena di buttare via computing power, cioè di far girare il processore e di buttare via RAM per fare lo schermo bianco invece che nero e invece di popolare solo i pixel dei caratteri per fare queste finestre che si sovrappongono, che si muovono e così via. Allora, l'invenzione, come diceva Giorgio, dell'analogia col mondo materiale, con la carta, con le icone, viene da Star, da Xerox, ma la soluzione del dilemma risparmiamo RAM oppure la buttiamo via per fare una bella cosmetica sullo schermo è di Jobs. E questa è una grande dichiarazione di vittoria nel rapporto fra piacere d'uso e peso nell'utilizzo della tecnologia, fatica per la tecnologia. Questo è un commento che costruisce sulle cose che diceva Giorgio all'inizio. In realtà è un argomento molto delicato perché da una parte Jobs e la Apple sono il migliore esempio di user focus, cioè di pensare la tecnologia orientata all'utilizzatore. Dall'altra parte sono il migliore esempio di come non misunderstand, di come non prendere quella dichiarazione in modo sbagliato, che è, errore, quello di pensare che se devo fare qualcosa per gli utenti glielo chiedo. No, perché se chiedi a un utilizzatore cosa vuole fra cinque anni e lui ti dice sicuramente quello che ha visto passati cinque anni non quello che vede nel futuro. Questa dichiarazione e molti degli esempi dei prodotti della Apple e di Jobs è un po' la sintesi di questa borderline dedicatissima fra sì essere user oriented ma no, non aspettarsi che siano gli utenti a dire cosa vogliono. allora in conclusione io per un po' di tempo preparando questa presentazione ma anche prima anche parlando con amici designer del tipo ad esempio fra i designer si pensa sempre ma la Apple è un bel posto dove fare design e uno dice beh fa il design più bello del mondo però da una parte uno pensa ma è Steve Jobs che disegna e se io sono un designer voglio andare da un CEO che mi dice come fare i raggi magari non sono tanto contento per cui il dibattito su se Steve Jobs fosse o no un designer è nell'aria da un po' di tempo però alla fine io preparando questa presentazione in realtà mi è venuto una definizione che intanto non deve entrare in questo dilemma di stabilire se Steve Jobs fosse o no designer non mi interessa se fosse o no designer la cosa che trovo interessante e qui un po' smetto di parlare di Apple come azienda non americana e comincio a parlare di Apple come un possibile una possibile ispirazione possibile collegamento alla cultura italiana Steve Jobs era un progettista non mi interessa se fosse un designer o no ma nella sua intera attività aveva come componente fondamentale della sua cultura la cultura del progetto che è in parte quello che muove i designer ma non solo loro la cultura del progetto è l'idea che uno costruisca il disegno di un prodotto o il disegno e i destini di un'azienda intorno a un progetto una visione del futuro e una direzione per andarci allora questa è una una dimensione abbastanza scontata in Italia se uno viene dalla tradizione del design o semplicemente se uno conosce la storia della cultura italiana non è per niente scontato nella cultura americana infatti nell'utilizzo dei termini mi sono reso conto che per molto tempo la cultura italiana ha usato una parola inglese design per definire quello che facciamo e la parola migliore che mi viene per definire un fenomeno americano come la Apple è una parola italiana che è anche più forte della parola inglese design che è il progetto per cui per me la definizione il complimento più grosso se lui mai interessasse i miei complimenti che posso fare da Steve Jobs è che era un vero progettista la seconda questione che per me è molto molto importante forse per me in questo momento nel percorso della mia carriera avendo passato essendo macinato è stato macinato per nove anni in una grande corporation americana è la dimensione artigianale la dimensione artigianale quello che si scopre guardando il percorso di Jobs è che la dimensione artigianale non è l'alternativa alla dimensione industriale lui ha costruito l'azienda più grande del mondo in modo artigiano forse qualcuno si deve non dal punto di vista solo del design ma dal punto di vista della cultura industriale domandare chissà come mai la più grande industria del mondo è costruita come l'artigianato che per tradizione era l'opposto era il formato diverso da quello da quello industriale e per artigiano non intendo solo perché lo faceva che limava l'alluminio per fare le case le strutture dei macbook ma che il suo pensiero la sua lentezza in senso in modo positivo insomma il suo focus il suo la sua concentrazione ha più a che fare col mondo dell'artigianato che non con quello industriale e la sua attenzione al fare bene per il piacere di fare bene definitivamente artigianale e l'ultima definizione che mi viene da fare in termini di summary di conclusione rispetto al suo profilo è che in confronto a non solo americana molte culture che parlano di scienza dell'innovazione e così via io lo trovo un poeta dell'innovazione per cui l'innovazione ha una dimensione scientifica ma anche una dimensione emozionale lui ci ha insegnato e ha praticato l'idea che il design e i prodotti avessero una componente emozionale ma anche il suo modo di fare innovazione stesso e io lo trovo come valore fondamentale un valore di poesia conclusione della conclusione della conclusione credo che devo per tornare un po' al tema cercare di ricostruire queste relazioni fra Steve Jobs e la cultura italiana molte delle cose che abbiamo visto qua sono in realtà facilmente riconducibili alla tradizione culturale italiana il fatto di essere concentrati sul prodotto e il fatto di avere una dimensione culturale non di scala artigianale sono cose che molto facilmente si possono ricollegare alla cultura italiana infatti fra l'altro una Giorgio ha parlato dei rapporti del possibile confronto fra Jobs e Olivetti a me un altro dei nomi che veniva in mente è quello di Enzo Ferrari cioè se uno pensa a un imprenditore che è partito dal nulla ha inventato una tipologia di prodotto e ha inventato un'azienda di dimensioni internazionali e di successo intorno a questo intorno alla passione per fare le cose bene a me veniva in mente e combinato con un carattere con un carattere terribile Ferrari è il perfetto parallelo di Steve Jobs e un paio di cose anche in parte come provocazione che non mi sembrano funzionare nel parallelo fra la cultura dell'innovazione di Jobs e della Apple e la situazione italiana in questo momento è quello del tipo di prodotti che lui faceva cioè c'è una dimensione di utilità nelle sue invenzioni una piccola prevenza gran parte delle invenzioni di design che Jobs ha fatto o promosso erano nell'invenzione di una tipologia di prodotto prima che di una invenzione dell'estetica del prodotto la tipologia del Mac verticale con lo schermo sopra e la macchina sotto l'invenzione della tavoletta sono invenzioni di una tipologia di design di form factor e una tipologia di prodotto e attaccato a questo una dimensione di utilità e il miglior esempio è l'iPad l'iPad ha inventato una necessità non possiamo più vivere senza iPad e non esisteva cinque anni fa questa è una dimensione che io non riesco tanto a ritrovare almeno in molto del design e della cultura del design in Italia in questo momento la cultura del design adesso sono troppo provocatore parte della cultura del design in Italia è intorno a prodotti come il lusso come la differenziazione nella moda che sono meno direttamente collegabili all'invenzione di una necessità di un'utilità e parlo a proposito di questo anche dell'atteggiamento dei designer i designer cresciuti negli ultimi 15 anni in Italia non sono cresciuti culturalmente in una situazione in cui il designer ha chiamato a costruire solidi nuove tipologie di prodotto siamo cresciuti sono cresciuti quelli più giovani intorno a facciamo un'altra sedia facciamo un altro tavolo stavolta invece di farlo così lo faccio cos'è e così via non disprezzo questa cultura ma è diversa da quella dell'Apple altre cose che trovo comuni ma non necessariamente in positivo fra la cultura di Steve Jobs e dell'Apple e la cultura italiana è che quando un'azienda è fondata intorno a una persona quando la persona non c'è più siamo in trouble siamo qui tutti a guardare Apple adesso per capire come e se sopravviverà Jobs abbiamo speso molto tempo in Italia a guardare se gli studi di design italiani sopravvivevano a Sozzas Magistretti Castiglioni e così via quella generazione e non sono sopravvissuti siamo tutti a guardare cosa succede nelle aziende italiane anche quelle di dimensioni internazionali quando i figli dei padri non necessariamente continuano con la stessa forza per cui c'è una questione di forte legame fra l'imprenditore e l'impresa che in cui c'è un forte parallelo fra l'Apple e la cultura imprenditoriale italiana ma è sotto un grande punto di domanda non necessariamente positiva e poi ma credo non avere più tempo c'è la questione che anche Giorgia ha toccato su being closed or open cioè essere aperti o chiusi credo che Steve Jobs si sia trovato un po' suo malgrado a costruire e l'ha fatto benissimo ecosistemi cioè partendo dal prodotto prodotto hardware più software e poi iTunes e la distribuzione e così via adesso l'Apple si trova sicuramente in una fantastica posizione di possedere interi ecosistemi dall'altra parte sembra che il mondo si stia muovendo in una dimensione un po' diversa di ecosistemi in cui si gioca con altri che sono sia concorrenti che amici partner e competitor e gran parte dell'intelligenza imprenditoriale e strategica del futuro sarà quella di sopravvivere in una situazione in cui non si possiede l'intero ecosistema la domanda l'Apple è il canto del cigno del modello passato da questo punto di vista cioè l'ultima e unica azienda che è riuscita a costruire un sistema un intero sistema chiuso ma da qui in poi questo non sarà ripetibile oppure altri segnali altri tipi di strategie che sono quelle dei sistemi aperti magari non funzioneranno e si dimostrerà che l'unico modo di sopravvivere è quello all'interno dei sistemi chiusi grazie grazie